Grazie a tutti. Perché? Qual è il senso? Come funziona? Quali sono poi i meccanismi per operativamente entrare a farne parte? Un po' dalla parte sia dei ragazzi che si vogliono iscrivere a questo programma e un po' invece per le aziende che vogliono assumere questi ragazzi, dall'altra gli operatori che sono comunque compresi all'interno del sistema Garanzia Giovani. La prima cosa secondo me fondamentale da capire nel momento in cui si inizia a parlare di Garanzia Giovani è un attimo avere in mente il contesto in cui la Garanzia Giovani si va ad inserire, che è un contesto particolarmente preoccupante ed è quello che purtroppo tutti noi conosciamo, quello della grande crisi della disoccupazione e dell'occupazione giovanile. A partire dal 2008 circa i livelli di disoccupazione giovanile nel mondo hanno continuato a peggiorare in maniera sempre crescente negli anni. Sono circa 75 milioni i ragazzi nel mondo che non hanno un'occupazione e 5 milioni e mezzo di questi sono dei ragazzi europei. Questo ha portato i decisori internazionali a doversi muovere, a dover prendere delle decisioni e ad accogliere delle misure, perché ad essere coinvolti erano i ragazzi, quindi il futuro del mondo, il futuro delle società e dei paesi. Non agire in questo senso significa mettere un'ipoteca sul futuro. Come si è deciso di agire? Quali sono le misure che a livello internazionale e poi anche europeo e nazionale si è cercato di dare delle risposte a questo grandissimo problema? Una delle prime risposte è stata quella di cercare di sostenere la domanda di lavoro attraverso incentivi, sussidi economici di vario tipo. In realtà questa strada, per quanto sia ancora percorsa e ne è testimone per esempio la legge dell'anno scorso, la legge Giovannini sugli incentivi, non è probabilmente la strada più adeguata, per due motivi in particolare. Il primo è che viviamo in un contesto in cui anche le risorse pubbliche sono scarse, quindi una politica basata soltanto sugli incentivi all'occupazione non è sostenibile nel lungo periodo. Il secondo motivo è che le indagini condotte sulla funzionalità degli incentivi rispetto alla creazione dei posti di lavoro hanno dato dei risultati discutibili. Se avete seguito nei giornali in questi giorni, la settimana scorsa in particolare è uscito un rapporto di monitoraggio che dava conto di quello che era stato il successo degli incentivi istituiti dal DL Giovannini, sostanzialmente testimoniando che la maggior parte di questi non era stata nemmeno chiesta dall'impresa. Questo la dice lunga sul fatto che gli incentivi creino e stimolino l'occupazione. Quindi era necessaria ed è necessaria una risposta di tipo diverso. La maggior parte dei paesi europei e anche internazionali hanno allora provato a deregolamentare il mercato del lavoro, cioè diminuire le regole e incrementare la flessibilità. Ma anche questa strada non è la strada più giusta e opportuna e questo lo dimostrano anche qui i rapporti internazionali che ci dicono che laddove è stata diminuita la tutela dei posti di lavoro e quindi nei confronti dei lavoratori non è aumentata l'occupazione. Questo tipo di riflessioni ha indotto l'Unione Europea in particolare a cercare di progettare un piano per l'occupazione e per l'occupabilità delle persone posto su premesse diverse. Si è visto in particolare andando a guardare quella che è la situazione, la struttura dei mercati del lavoro di diversi paesi che laddove l'occupazione teneva meglio e dove i livelli di disoccupazione giovanile sono inferiori, non tanto erano presenti politiche del lavoro flessibili, quindi facilità a licenziare piuttosto che facilità a stipulare contratti di lavoro flessibili, quindi a tempo determinato, ma piuttosto si è evidenziato come l'occupazione giovanile registrava dei numeri importanti in quegli stati europei e internazionali dove di più erano presenti delle misure a sostegno delle transizioni occupazionali e quindi strumenti tipo l'apprendistato per esempio o comunque misure volte a favorire l'alternanza scuola-lavoro. Un esempio in questo senso è costituito dalla Germania e dall'Austria che hanno livelli di occupazione altissimi, un tasso di disoccupazione giovanile assolutamente contenuto e sono paesi in cui l'apprendistato è molto forte. L'apprendistato lì è concepito non tanto come lo conosciamo noi, quindi come un contratto di lavoro, noi conosciamo prevalentemente l'apprendistato professionalizzante, che quindi è quello che viene stipulato una volta che si esce dai percorsi di formazione dalla scuola e si entra nel mercato del lavoro. In realtà in Austria, in Germania, l'apprendistato è un modo per imparare lavorando. Questo significa che i ragazzi tedeschi e i ragazzi austriaci già quando sono a scuola lavorano e questo perché esiste una formazione strutturata sul paradigma della dualità, per cui una parte del periodo formativo si passa a scuola e una parte del periodo formativo si passa in azienda e il periodo che si trascorre in azienda viene comunque concepito come un credito formativo e come una formazione a tutti gli effetti. Quindi un'analisi condotta sulle legislazioni esistenti nei diversi stati ha indotto a riflettere su quali dovevano essere le leve per stimolare l'occupazione giovanile. E quindi si è deciso a livello europeo di portare avanti una politica concentrata soprattutto su questi strumenti, quindi l'apprendistato e tutte le leve capaci di consentire un inserimento nel mondo del lavoro collegate anche a canali formativi. Se infatti noi andiamo a vedere, io qui ho una cartina, però voi non riuscite a vederla, che essenzialmente mostra gli stati, il tasso di disoccupazione e il tasso di occupazione nei diversi stati europei, evidenziando dove l'apprendistato è presente e forte da uno strumento radicato, i tassi di occupazione sono più alti e conseguentemente quelli di disoccupazione più bassi e sono quelle che abbiamo citato, quindi la Germania e l'Austria e i paesi nord europei. Quindi laddove esiste una cultura affermata dell'alternanza, anche l'occupazione e i livelli occupazionali dei ragazzi registrano risultati decisamente più positivi. Queste appunto premesse hanno condotto allo sviluppo di quella che è la garanzia giovani. Ci si è chiesti perché agire con una politica di questo tipo e la motivazione l'ha data Gay Rider, che è il direttore generale dell'ILO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che commentando appunto il piano europeo ne ha spiegato il senso e la motivazione con una frase molto bella, dicendo che chiaro è che i sistemi di garanzia giovani non sono una panacea contro tutti i mali del mondo, ma sono una misura concreta e necessaria che ha un obiettivo fondamentale, quello di restituire la speranza ai ragazzi, mettendoli in contatto con i mercati del lavoro e la società, prevenendo quindi la perdita di competenze e garantendo una prima esperienza di lavoro. Quindi questa frase di Rider che io ho citato è importante secondo me perché sottolinea proprio il senso di questo piano, che non è tanto quello di creare nuovi posti di lavoro, quanto quello di dare nuova fiducia ai ragazzi, sostenerli nel loro inserimento nel mondo del lavoro. Ha quindi una valenza più che altro di supporto anche di tipo psicologico. Quando è stato presentato il progetto di garanzia giovani a livello europeo, il commissario Andor ne ha la descritta parlando di quello che era l'obiettivo fondamentale di questa garanzia, non lasciare da soli i giovani. Presentandola detto, l'obiettivo di questo piano è assicurare che nessun giovane europeo sia lasciato da solo e non lasciare da soli i ragazzi è un obiettivo e un punto fermo fondamentale, soprattutto perché le condizioni di maggiore disagio si registrano tra quei ragazzi che non hanno un'occupazione ma neanche più la cercano, quindi sono scoraggiati e hanno perso ogni fiducia nel futuro. Questo crea degli effetti anche a livello demografico per una società inaccettabili, perché questo significa che questi ragazzi che non lavorano e non cercano un'occupazione, probabilmente non si faranno una famiglia, non faranno dei figli e genereranno anche dei costi a livello sociale altissimi, perché i costi del disagio sociale che uno Stato deve sostenere sono elevatissimi. In questo senso, quindi, in questo contesto si inserisce la garanzia giovani, che non è, come ho detto, una misura contro la disoccupazione giovanile, non si pone l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro, ma è una misura di politica attiva che mira a rendere più efficienti le dinamiche dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. L'obiettivo è quello di tentare di fare emergere posti di lavoro che sono già esistenti, che sono vacanti, ma che non riescono sostanzialmente a trovare una loro copertura. Molte indagini in questi anni hanno dimostrato come in Italia e come un po' in tutti i paesi europei, internazionali, sia presente una domanda di lavoro che non ha una risposta, cioè non c'è un deficit tra domanda e offerta, soprattutto per alcune posizioni. Quindi l'obiettivo di questo programma europeo è quello di far rincontrare questa domanda lasciata, inascoltata e un'offerta di lavoro, come? Riallineando le competenze richieste dal mercato a quelle che invece sono possedute dai giovani. L'obiettivo quindi non è tanto creare occupazione, ma rendere le persone più occupabili, come? Attraverso l'orientamento e quindi una guida nei percorsi di scelta dei ragazzi, a livello anche di studio e di formazione e quindi conseguentemente sulle loro scelte nel mercato del lavoro e attraverso una formazione che sia veramente in linea con quelli che sono i fabbisogni e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Quindi è una politica che guarda alle transizioni occupazionali, il cui obiettivo è quello di mettere insieme tutta una serie di misure che già esistono e che sono presenti nei diversi paesi. In primo luogo l'apprendistato e i tirocini. Dei tirocini nella raccomandazione europea si parla come esperienze che devono essere necessariamente di qualità. Come si garantisce la qualità di un tirocinio? Garantendo che il tirocinio sia effettivamente un momento di formazione per il ragazzo e quindi di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. In questo senso l'Unione Europea all'interno della strategia per l'occupazione giovanile ha anche introdotto vari principi volte ad assicurare la qualità dei tirocini e degli apprendistati, al fine appunto di garantire che le esperienze di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro siano qualitativamente elevati, cioè non soltanto una strategia quantitativa per la creazione di occupazione ma orientata anche alla qualità dell'occupazione che si va a creare. Perché un sistema di questo tipo? Perché si è capito che in quei paesi dove sistemi di questo tipo erano già presenti si erano registrati successi importanti. Per esempio la Svezia e la Finlandia sono paesi europei che già a partire dagli anni 80 avevano dei sistemi di garanzia giovani, a cui poi i decisori europei si sono ispirati nella definizione di questo piano. In particolare in Svezia già nel 1984 esisteva un sistema detto appunto di garanzia giovani basato proprio sull'apprendistato e sull'alternanza, tenuti assieme da un sistema di servizi per il lavoro e di politica attiva particolarmente efficiente. Questo ha permesso a questi stati di avere livelli di occupazione importanti, di disoccupazione assolutamente bassi. Nel 2007 la Finlandia e la Svezia hanno rinnovato i propri sistemi di garanzia giovani accentuando nelle caratteristiche e comprendendo in questi programmi un numero sempre più elevato di ragazzi. I risultati che si registrano in questi due stati sull'attuazione della garanzia giovani sono particolarmente soddisfacenti. In Finlandia per esempio l'85% dei giovani che si sono iscritti alla garanzia hanno trovato un'occupazione nei primi tre mesi dall'iscrizione. Lo stesso dica sì in Svezia dove sono stati sperimentati dei laboratori del lavoro che hanno avuto quali destinatari ragazzi particolarmente svantaggiati, quelli che avevano abbandonato la scuola da più di due anni che hanno trovato in questi laboratori un canale per reinserirsi nel mondo scolastico e poi nel mercato del lavoro. Quindi due esperienze di successo da cui è nata ed è origina la raccomandazione europea sulla garanzia giovani. Vi dicevo appunto che la necessità di intervenire a livello europeo è stata determinata anche da un contesto di disoccupazione tra i ragazzi europei particolarmente elevato. Su queste premesse si è messo in piedi un meccanismo di definizione di questo piano che ha visto coinvolte diverse realtà istituzionali e le parti sociali. Si tratta di un progetto, quello della raccomandazione europea sulla garanzia giovani, che è partito nel 2010 ed è arrivato a concludersi con la raccomandazione europea il 22 aprile 2013. Nel giugno dello scorso anno è stata poi approvata tutta una serie di raccomandazioni specifiche rivolte in particolare a ciascuno Stato membro con delle indicazioni dettagliate su come i diversi Stati avrebbero dovuto agire per dare attuazione a questo piano europeo. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha richiesto al nostro Stato di porre particolare attenzione per realizzare la garanzia giovani proprio al tema dell'alternanza scuola-lavoro e garantendo un maggiore ed efficiente funzionamento dei servizi per il lavoro. Qual è però l'obiettivo di tutte queste misure che compongono la garanzia giovani, che sono abbiamo visto l'apprendistato, il tirocinio, ma poi molte altre, la formazione, l'alternanza. È quello di assicurare a tutti i giovani che si registrino a questo programma e poi vediamo come, entro quattro mesi dalla registrazione, un'opportunità di lavoro o di proseguimento degli studi. I destinatari di questo tipo di azioni, quindi della garanzia giovani, sono i ragazzi tra i 15 e i 24 anni per quanto riguarda il piano europeo. L'Italia poi, nell'attuare il piano nazionale di garanzia giovani, tenendo conto delle particolari caratteristiche della disoccupazione e dell'inoccupazione dei giovani italiani, ha esteso questo tipo di garanzia anche ai ragazzi che non avessero compiuto il trentesimo anno di età. Quindi rispetto al programma europeo, l'Italia ha deciso di aumentare il target di giovani coinvolti. Come si compone questa garanzia giovani nel piano europeo? Si compone essenzialmente di diverse azioni. La raccomandazione individua proprio uno schema, un progetto sulla base del quale poi i diversi stati avrebbero dovuto costruire i propri sistemi nazionali. Quindi è una raccomandazione molto concreta che individua proprio la strada da seguire e i passaggi che devono essere seguiti dai diversi stati per costruire questi sistemi. Il primo adempimento che viene richiesto agli stati è quello di individuare un'autorità unica a cui spetta la regia di tutto questo piano. E poi elaborare essenzialmente delle partnership e dei partenariati, quindi delle alleanze capaci di coinvolgere il numero maggiore di attori possibili per attuare questo tipo di misure, in modo che avessero una portata il più possibile estesa. E quindi la raccomandazione europea fa esplicito riferimento alla necessità di coinvolgere le scuole, i centri pubblici per l'impiego, gli operatori privati del mercato del lavoro, il terzo settore, il mondo dell'associazionismo, le parti sociali, tutti quegli attori che poi fanno direttamente o indirettamente in maniera formalizzata o meno intermediazione, cioè hanno una funzione di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta in particolar modo per quanto riguarda i giovani. Il piano europeo è stato attuato in Italia tendenzialmente in maniera differente rispetto a quelle che erano state le indicazioni europee e adesso vedremo anche perché. Quello che è interessante vedere è come anche gli altri Stati europei abbiano attuato questo sistema di garanzia. Ad oggi quasi tutti gli Stati europei hanno presentato un proprio piano di attuazione così come abbiamo fatto noi ed è in corso l'implementazione delle misure contenute nei diversi piani. Le scelte che sono state adottate a livello europeo sono state molto diverse. Per esempio la Francia, a differenza di quanto abbiamo deciso di fare noi, ha deciso di avviare la garanzia giovani come un progetto sperimentale che riguarda soltanto alcuni territori francesi, almeno per i primi due anni, al fine di effettivamente verificare come poteva funzionare su un target ristretto di destinatari e di territori questo tipo di sistema, verificando la fine della fase sperimentale come e in che modo estenderla poi a tutto lo Stato. Differentemente noi abbiamo deciso di partire in maniera generalizzata con un piano nazionale di attuazione che coinvolgesse tutti i territori nazionali e un target molto più esteso tra l'altro di quello europeo perché abbiamo visto prima si coinvolgono in Italia i ragazzi dai 15 ai 29 anni o meglio i 30 non compiuti. L'Unione Europea ha messo a disposizione dei diversi Stati membri un numero consistente di risorse per l'implementazione di questi sistemi di garanzia e ha suddiviso le risorse guardando al numero di abitanti di ogni Stato membro e al tasso di disoccupazione registrato nei diversi territori. In particolare sono arrivate più risorse a quegli Stati che avevano un tasso di disoccupazione superiore. Quindi gli Stati che sono stati maggiormente coinvolti in questo programma e che hanno ricevuto più risorse sono stati l'Italia, la Grecia e la Spagna che hanno attuato sostanzialmente in maniera in parte differente questo sistema di garanzia giovani. Come è avvenuta l'attuazione di questo sistema in Italia? In primo luogo a luglio dell'anno scorso è stata istituita quella che è stata chiamata la struttura di missione. La struttura di missione è una struttura ministeriale tendenzialmente che si compone di diverse personalità che rappresentano il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro, l'Inps, le agenzie tecniche del Ministero del Lavoro e quindi l'ISPOL, Italia Lavoro, i territori e quant'altro. A questa struttura è stato demandato il compito di elaborare il piano nazionale di attuazione della garanzia giovani e si è arrivati a definire un piano nel dicembre di quest'anno, dell'anno scorso, 2013, che è stato poi sottoposto alla Commissione Europea. In questo piano sostanzialmente sono contenute le linee guida che le regioni avrebbero dovuto recepire, che hanno ormai tutte recepito per attuare nei diversi territori appunto la garanzia giovani.